Aggiungo al suo messaggio di scarsa conoscenza dei ragazzi del canale dell'ITS, ahimè, e su questo per la nostra parte facciamo anche autocritica, la scarsa conoscenza delle imprese. Io perlomeno noto nel mio settore dell'Information Technology, Information Communication Technology, che su 58 ITS soltanto 6, quindi il 10%, mentre i settori di industria 2015 erano 6, quindi siamo sotto media. Pergiunto è un settore critico, delicato, in cui tutti dicono che l'innovazione tecnologica è fondamentale quando questo Paese si rimetterà a camminare. Quindi questa assenza dell'Information Communication Technology, tra l'altro io ho analizzato attentamente il panel delle aziende che hanno collaborato alla Costituzione, ahimè non c'è nessuna delle grandi aziende prestigiose di innovazione tecnologica. Questa è una cosa che ho notato con molta amarezza, ormai credo, mi diceva stamattina il dottor Murano, che questo lotto, chiamiamo così, ormai è consolidato, quindi per questo giro è andata così. Spero che per il giro che, se non sbaglio lei mi ha detto, partirà a settembre del 2012, di poter fare una campagna di sensibilizzazione sulle imprese di tecnologia informatica, perché veramente la trovo una carenza disastrosa. Quando ribadisco la formazione tecnica, la formazione tecnica superiore la fa da padrone nel nostro settore. Veramente molto amaro. Adesso sentiamo qualche testimonianza di ITS, quindi le sentiamo con estrema attenzione. Il primo è il dottor Migliavacca del Maxwell di Milano. Vi prego di nuovo il rispetto dei tempi. Grazie. Buongiorno a tutti e un attimino solo per avviare. La regia dovrebbe fare lo switch. Buongiorno a tutti, io sono Paolo Migliavacca e sono un insegnante dell'Istituto Maxwell di Milano. Noi, insieme a alcuni partner che da tempo seguono con noi l'andamento della formazione tecnica superiore, abbiamo realizzato un'esperienza, stiamo iniziando a realizzare un'esperienza di ITS, che abbiamo chiamato ITS Lombardo Mobilità. Siamo all'interno della mobilità sostenibile, ma ci occupiamo di mobilità sostenibile innanzitutto nel trasporto aereo e nel trasporto in genere. I partner che costituiscono questo ITS provengono da una storia ormai ultradecennale di esperienze nella formazione e nell'alta formazione tecnica. Li cito in ordine come sono elencati nella slide. L'Isis Ponte di Gallarate, che è la scuola superiore dell'ente di riferimento per l'ITS, noi del Maxwell di Milano. Un ente fondamentale per la costruzione e la costituzione dell'ITS, a cui va il merito di aver insieme a noi, e forse più di noi, e insieme all'operatività del suo presidente, Angelo Candiani, quello di aver sostenuto l'attività di creazione e di formazione tecnica superiore. Sto parlando di ASLAM, l'associazione scuola lavoro di Alto Milanese. C'è anche un altro ente di formazione, il Consorzio per la formazione logistica intermondale di Venezia. Abbiamo poi tre aziende che sono sicuramente leader ognuna nel proprio settore di riferimento. Augusta Westland, non ha bisogno credo di presentazioni, è leader mondiale nella realizzazione di aeromobili ad alla rotante, di elicotteri, del gruppo FIM meccanica. Neosair, una compagnia aerea per il leisure, attiva di proprietà del gruppo Alpitour, se non vado errato, una delle più importanti realtà per il trasporto aereo da turismo all'interno del nostro Stato. Ervergiate, la prima scuola di volo certificata con standard europei, che produce addestramento per piloti di linee e piloti di elicotteri. Poi abbiamo scelto come università la LIUC, che è un'università che fa capo alle aziende e opera all'interno del territorio nazionale con la sua sede di castellanza. L'ente locale che ha scelto di aderire all'Istituto Tecnico Superiore è un comune, il comune di Somma Lombardo, che vedremo poi ha un ruolo fondamentale nella costruzione di tutto il percorso dell'ITS. Da dove veniamo? Dicevo che abbiamo un'esperienza ultradecennale. Nel 1998 partiva già uno dei primi esperimenti di istruzione e formazione tecnica superiore, proprio legato all'ambito dell'aeroporto e all'ambito della manutenzione degli aeromobili. Ci siamo cimentati veramente con tutte le possibilità che lo Stato e le regioni ci hanno dato per produrre una formazione tecnica superiore di alta qualità. Abbiamo fatto oltre dieci percorsi IFTS con buon esito, soprattutto dal punto di vista occupazionale. Ci siamo occupati di formazione superiore, sempre nel nostro ambito di riferimento, quello del trasporto aereo. Abbiamo costituito un polo formativo che ha indagato, oltre che il settore del trasporto aereo, il settore dei trasporti in tutta la provincia di Varese e in tutto il bacino allargato dell'area milanese. Aslam, attraverso l'impegno come partner di riferimento di tutti noi, ha avuto un riconoscimento importante da Regione Lombardia, quello di eccellente, cioè ente eccellente nell'area della formazione. Dove operiamo? E poi cercherò di parlare un pochettino meglio di quello che è l'anima dell'ITS. Noi operiamo in un territorio fortemente industrializzato. Il primo riferimento che vi do è quello della provincia di Varese, la provincia delle Ali. Più di metà della produzione nazionale, in termini di cose di aviazione, sia dal punto di vista della produzione che dal punto di vista della fruizione dei sistemi di trasporto aereo, avvengono proprio a cavallo tra la provincia di Varese e la provincia di Milano. La Lombardia poi ha un sistema aeroportuale estremamente ampio ed estremamente articolato, che è fatto di tre aeroporti, quello di Malpensa, quello di Linata e quello di Bergamo, che non a caso sono tre aeroporti conosciuti a livello internazionale come gli aeroporti di Milano. Oggi questi tre aeroporti sono in grado di sviluppare un'offerta di servizio intorno ai 33-35 milioni di passeggeri. divisi in tre infrastrutture differenti sono un qualcosa anche dal punto di vista di gestione tecnica veramente complesso e articolato. Questo è il nostro contesto di riferimento, un contesto fatto di molte migliaia di addetti che a vario titolo e a vario livello vengono impiegati nel sistema del trasporto aereo, sia per la produzione che per la manutenzione che per la gestione delle attività operative. Il contesto di riferimento ha poi una prospettiva importante. Il contesto milanese, come tutto quello italiano, nel 2015 vedrà in maniera molto forte la presenza dell'esposizione internazionale, l'Expo. Nel grafico che vedete in basso a destra c'è la normale crescita del trasporto aereo determinato a livello nazionale dall'ente nazionale aviazione civile che per gli aeroporti dell'area milanese è stimato nel 5% annuo. Se non fosse per l'Expo che nel solo 2015 produrrà un surplus di crescita intorno a 3 milioni di passeggeri. Questo determinerà una crescita di traffico aereo che nel 2015 sfiorerà i 45 milioni di passeggeri, cioè un terzo in più rispetto a quelli che gestiamo oggi. E da qui i vari investimenti che sono in fase di realizzazione sia nelle aree aeroportuali, con la terza pista dall'aeroporto di Malpensa, con la realizzazione di nuove infrastrutture per il supporto dei passeggeri sia nell'area di Bergamasca che nell'area di Milano Linate. L'ipotetica realizzazione di una grande società che oltre a gestire questi tre aeroporti possa gestire anche l'aeroporto del Garda, cioè Verona, Villa Franca e Brescia Montichiari, che in un'ottica di sviluppo dovrebbero essere lo sfogo di quei passeggeri che non riescono a trovare un'offerta soddisfacente all'interno dei tre aeroporti di cui già Milano è in possesso. Ecco, all'interno di questa realtà, quella dell'aeroporto di Malpensa, un ente importante, Regione Lombardia, riconoscendo il gruppo di partner che ha lavorato nel sistema del trasporto aereo in maniera forte, ha deciso di fare un investimento importante. Ha finanziato attraverso un accordo di programma che ha realizzato appunto col Comune di Somma Lombardo e con la regia dell'Associazione Scuola Lavoro Alto Milanese un accordo di programma che finanzia la realizzazione di un centro di eccellenza, una nuova scuola, non soltanto quindi una nuova idea, ma addirittura una nuova sede per la realizzazione anche dell'Istituto Tecnico Superiore. La sede è ubicata, lo vedete il pallino giallo? Ecco, quelle due vie che vedete, diciamo, quelle grandi strade che vedete connesse dalla parte centrale sono le due piste dell'aeroporto di Malpensa. Nella vista di destra è più o meno l'ingombro che occuperà la nuova scuola una volta ultimata nel settembre del 2012 e quella che si vede in alto a destra è la testata di una delle due piste dell'aeroporto di Malpensa. Siamo veramente nel cuore dell'aeroporto, lì dove le aziende hanno bisogno vengono formati gli studenti, vengono formati i loro futuri addetti. E questo è una rappresentazione grafica molto semplice di quello che sarà il nuovo polo per l'eccellenza all'interno del sistema dei trasporti e in particolare del sistema del trasporto aereo. Che cosa abbiamo deciso di realizzare? Ecco, noi siamo probabilmente un caso nazionale perché noi insieme alla Liuc e insieme ai tecnici esperti del Politecnico di Milano e di altre realtà che ci hanno da anni, che ci seguono da anni nella sperimentazione, abbiamo deciso per il primo dei corsi che abbiamo progettato di realizzarlo su tre anni, 3.000 ore di formazione. Perché? Ci siamo confrontati con le realtà straniere, con quello che avviene nel resto del mondo, non chiudendoci all'esperienza europea, e abbiamo visto che nell'ambito della manutenzione aerea, per creare un tecnico che abbia delle reali competenze da tecnico superiore, formato all'interno di un istituto tecnico superiore, non erano sufficienti le 2.000 ore. Dovevamo investirne 3.000. Dovevamo chiedere ai ragazzi di rimanere nel nostro sistema formativo un anno in più per consentire loro veramente di riuscire a rispondere alle esigenze delle aziende che si occupano di manutenzione dei velivoli. Il secondo percorso che abbiamo deciso su indicazione diretta del mondo dell'industria, che abbiamo deciso di iniziare a progettare, è quello per la realizzazione invece dei velivoli a dalla rotante, cioè la costruzione di tecnici capaci di entrare il giorno dopo in azienda e mettersi a montare i velivoli che poi verranno venduti nel mercato globale, non soltanto nella provincia di Varese o nella provincia di Milano, ma in tutto il mondo, in tutti i paesi in cui Augusta Westland esporta le proprie realizzazioni. C'è un'altra cosa importante, non ci siamo limitati a pensare di progettare un percorso in un contesto di scuola, in un contesto di linee guida dell'ITS. Quelle le abbiamo prese come uno degli elementi fondamentali in ingresso nella nostra progettazione. E poi ci siamo confrontati con il mondo. Un tecnico per la manutenzione nell'ambito del sistema del trasporto aereo per poter operare veramente, direttamente nelle aziende ha necessità di avere un certificato, si chiama licenza per la manutenzione degli aeromobili e per poter raggiungere, per poter vantare un titolo di questo genere non ha bisogno soltanto di titoli di carattere accademico o titoli di studio, ma deve dimostrare di avere conoscenze, competenze e abilità e misurarle in un sistema valido in tutto il mondo. Questo sistema in Europa ha un nome, si chiama Regolamento parte 66 per lo staff di manutenzione e una scuola che lo voglia adottare come elemento in ingresso in progettazione e che voglia offrire ai propri studenti un percorso in questo senso, si deve certificare secondo un'altra normativa che è la parte 147. Queste due norme, parte 66 e 147, sono regolamenti europei in vigore anche in Italia ormai da qualche anno e l'esperienza unica nel suo genere che andremo a fare all'interno di questo ITS è quella di dare una forte impronta didattico-metodologica proveniente dall'esperienza della scuola e dell'università d'accordo con la regolamentazione tecnica del mondo del trasporto aereo. Abbiamo già iniziato il percorso di certificazione, abbiamo già incontrato ENAC, abbiamo già spiegato a ENAC quali sono le nostre intenzioni e ci siamo dotati di una doppia infrastruttura di gestione, da una parte la progettazione didattica data al Comitato Tecnico Scientifico che guarda con maggior riferimento le linee guida dell'ITS, dall'altra la parte richiesta invece dalla normativa internazionale che vuole l'applicazione dei regolamenti per la formazione dei tecnici e insieme queste due strutture stanno realizzando una progettazione didattica che accolga tutte le istanze per ottenere la certificazione come scuola per la formazione di manutenitori d'aereo mobile. Quindi, oltre a costituire l'eccellenza dal punto di vista della formazione scolastica, costituiremo anche l'eccellenza dal punto di vista della formazione tecnica, rispondendo alle necessità del mondo industriale. Due minuti, dottore. Sì, ho quasi finito. La nostra timetable prevede a settembre, è molto stringente, 2011 in certificazione, partenza con il primo corso, settembre 2012 o prima, partenza anche con il secondo corso, 2014 fine del corso per i manutenitori certificati, con un titolo spendibile, valido al sesto livello del qualification framework europeo e dall'altra parte un titolo spendibile ovunque come manutentore di aereo mobile per aereo mobili di linea di grande importanza. Per un'ultima slide, poi ho finito. Certificarsi, farsi approvare i corsi, farlo all'interno del contesto dell'ITS per dare agli studenti la possibilità di ottenere una certificazione. Beh, noi crediamo che questo sia l'elemento per far vincere l'ITS. Non ci diciamo noi quanto siamo bravi e quanto siamo belli, ce lo facciamo dire da altri. Prendiamo un ente esterno che non è abituato a parlare con le scuole, che non è abituato a parlare con un mondo che invece vuole crescere. Ci facciamo certificare e facciamo in modo di rispondere all'esigenza di formazione di tecnici qualificati e alla risposta ai bisogni dell'industria e del mercato del lavoro. Potete seguire, e questo è l'ultima slide, gli sviluppi del nostro ITS sul sito che è in fase di realizzazione. ITS lombardomobilità.it Sotto vedete la mia mail. Se qualcuno vuole farmi domande e approfondimenti sono più che disponibile a rispondere. Ringrazio tutti per l'attenzione e il Politecnico di Torino e di Dammatica e l'AICA per la splendida occasione. Grazie. Grazie, dottor Migliavacca. Mi sembra veramente una bellissima iniziativa. Dottor Dorazio, a lei, dottoressa. Bene, anche io ringrazio tutti, dal direttore generale, l'AICA, il Politecnico di Torino e l'ANSA, se chiunque abbia consentito a me di essere qui oggi, pomeriggio. Riprendo dicendo semplicemente che io rappresento l'istituto di riferimento di un ITS che è a Messina, quindi nella regione Sicilia ce ne sono attualmente cinque. quello di cui il mio istituto e l'ente di riferimento si occupa del settore agroalimentare. Vorrei però riprendere alcuni punti della relazione del dottor Murano portando, diciamo, alcune mie esperienze. Gli IFTS che hanno preceduto la costituzione degli ITS è vero, non sono stati la risposta adeguata né in termini di formazione perché comunque forse non era sufficientemente lunga né in termini di possibilità di inserimento successivo dei giovani nel mondo del lavoro. Però è anche vero che negli ultimi anni gli IFTS sono stati anche IFTS Cipe. Quindi coesistevano sia quelli con il finanziamento regionale che quelli appunto Cipe. Io li considero con il finanziamento nazionale. Qual è la differenza tra questi due? Perché quelli Cipe hanno avuto un risultato straordinariamente più importante e significativo e quindi rappresentano in qualche modo la predisposizione agli ITS. Uno degli aspetti fondamentali di questi IFTS Cipe è stato quello di essere stati seguiti nel tempo dalla Cruy che ha consentito a tutti questi nodi di rete perché poi in realtà si sono costituiti dei nodi di rete nella prima tornata provinciale e nella seconda addirittura interregionale. La presenza della fondazione Cruy che tra l'altro è costituita anche da moltissimi docenti universitari di straordinaria naturalmente preparazione di chiara fama hanno consentito quindi a questi IFTS di porre molta attenzione non vorrei dire di conseguire di porre molta attenzione agli standard di qualità in termini sia di qualità di processo che di qualità di prodotto. Gli IFTS Cipe quindi hanno dato una risposta che a mio parere è sicuramente di gran lunga superiore ai precedenti e in qualche modo rappresenta una sorta di prodromo agli ITS. per quanto riguarda poi la costituzione degli ITS di cui ovviamente il direttore generale ha già detto mi soffermo su un aspetto che egli ha poc'anzi toccato e che è veramente fondamentale. Che cosa significa oggi orientare i giovani verso gli ITS? È chiaro che la situazione coggente ha impedito nel corso di quest'anno un orientamento profondo e adeguato ai bisogni degli stessi ITS ma certamente la scuola e questo è stato veramente importante ha dovuto ripensare a se stessa ed è proprio in questa fase di ripensamento un ripensamento molto forte che impegna tutti quanti. Quando si parla di orientamento ad esempio noi stiamo riflettendo sul fatto che l'orientamento non potrà più essere soltanto tra la scuola media e la secondaria superiore o tra la secondaria superiore e gli ITS perché sarebbe come dire soltanto una forma di più larga informazione che produrrebbe probabilmente soltanto alcuni effetti quindi di una maggiore conoscenza dei settori ma non produrrebbe il cambiamento di mentalità allora così da scolastica quale io mi sento e mi onoro di sentirmi ciò che dovrà cambiare sarà tutta l'organizzazione delle scuole a partire proprio dai più piccoli noi riflettevamo nel mio istituto l'altro giorno non si può più fare a meno di pensare alla didattica orientativa non solo quindi quella laboratoriale ma la didattica orientativa la didattica orientativa trova la possibilità di individuare in maniera molto precoce nei giovani le loro vere attitudini soltanto attraverso un un lavoro di questo genere si potrà raggiungere il risultato di un percorso noto allo studente e alla famiglia che lo conduca con assoluta consapevolezza verso i percorsi di cui ci stiamo occupando quindi in particolare verso gli ITS quindi facendo una scelta consapevole e anche molto precoce rispetto a quella che oggi avviene la diminuzione d'altra parte degli iscritti negli istituti tecnici e professionali il mio è un tecnico e professionale insieme infatti un istituto di istruzione superiore sono sicuramente stati determinati proprio dalla incertezza che ovviamente però non poteva essere risolta dal ministero e neanche da da nessuno di noi proprio perché il riordino ha come dire prodotto anche alcune fasi di incertezza persino in noi stessi oggi a distanza di un po' di tempo credo che ci si possa predisporre verso un lavoro appunto fatto con con maggiore attenzione è chiaro che se noi parliamo di didattica orientativa e laboratoriale è chiaro che bisogna anche riflettere proprio sulla possibilità di un aggiornamento di una nuova maniera di formare i docenti soprattutto naturalmente i più giovani quelli che accedono ora nel mondo della scuola tra un poco ci sarà ci sarà nuovamente anche il nuovo arruolamento oggi devono necessariamente avere alcuni requisiti per l'accesso alla scuola e sono gli stessi requisiti di cui stiamo parlando per i giovani che devono accedere agli ITS si parla di competenze informatiche di livello avanzato si parla di ECDL Advanced e si parla anche di certificazione di lingua inglese il livello B2 quindi siamo già naturalmente ad un livello alto quindi una formazione attenta sui docenti sarà necessaria un po' come è stato negli anni 80-90 a cavallo tra gli anni 80 e 90 però non sarà neanche sufficiente questo avanzo una mia ipotesi che naturalmente non è soltanto mia bisognerebbe ripensare al tempo scuola il tempo scuola oggi e mi riferisco alla secondaria superiore perché possa predisporre i giovani ad un accesso adeguato agli ITS dovrebbe essere un po' diverso il tempo scuola dovrebbe essere molto più flessibile perché è chiaro che anche l'utilizzo delle nuove tecnologie richiede ovviamente o spazi grandissimi e laboratori diciamo adeguati oppure un tempo flessibile rispetto ai bisogni di ciascuno degli studenti quindi io immagino una scuola che peraltro si sta già predisponendo ad essere tale molti istituti stanno investendo sulle nuove tecnologie attraverso naturalmente l'uso degli strumenti più moderni che permettono e consentono anche l'uso della tecnologia in classe attraverso il wireless e naturalmente i tablet e quant'altro tutti sappiamo dunque siamo in una fase in cui il fatto che la scuola debba ripensare a se stessa è veramente catartico quindi io lo considero un momento molto importante ed anche come dire piacevole da vivere perché ci permette di tornare sui nostri passi un altro aspetto fondamentale che è stato toccato dal direttore e che naturalmente ci vede protagonisti è proprio la cosiddetta integrazione tra i sistemi l'integrazione tra i sistemi quindi formazione secondaria istruzione scusate istruzione formazione e formazione universitaria e ovviamente anche questa come dire è una grande scommessa le regioni si stanno spendendo proprio sul processo di integrazione tra l'istruzione e la formazione hanno anche fatto delle scelte diverse a seconda dei casi hanno scelto l'integrativo o la complementare in molti casi come ad esempio la regione Sicilia ha inserito entrambi io credo che sia venuto il momento in cui i sistemi si possano guardare tra di loro senza alcuna preoccupazione anzi con un confronto avviso aperto considerando che ciascuno dei sistemi possa dare all'altro un grande contributo certamente il confronto con l'università sarà sicuramente uno dei momenti fondamentali poiché intanto l'università in gran parte dei casi salvo i casi in cui si sia toccato solo il centro di ricerca è parte integrante degli ITS ad esempio il nostro noi abbiamo avuto il piacere di avere la firma direttamente del magnifico rettore quindi anziché un dipartimento o un centro di ricerca se ne è occupato direttamente il nostro rettore dunque un confronto aperto è chiaro che ciascuno di noi dovrà come dire sedere allo stesso tavolo e mettere a disposizione il patrimonio di conoscenze senza paura da parte forse dell'università e senza una grande preoccupazione da parte della scuola credo che parlarsi sia l'unico modo per poter naturalmente affrontare i problemi dell'Europa quindi una coerenza tra la formazione del mondo del lavoro sarà sicuramente la scommessa e la carta vincente non mi soffermo molto su questo aspetto perché naturalmente il mondo del lavoro è stato ben descritto da chi mi ha preceduta è chiaro che io provengo da una realtà del tutto diversa io vengo da Messina dalla regione Sicilia che è una regione molto grande che ha delle straordinarie risorse ma naturalmente non dello stesso livello delle altre regioni delle regioni del nord il nostro territorio è fatto di piccole e medie imprese se non in qualche caso micro imprese comunque se è così come viene detto sia da Industria 2015 che da Italia 2020 in fondo anche le piccole e medie imprese hanno rappresentato in questi anni l'ossatura solida del paese poiché ha consentito hanno potuto anche sopportare la crisi energetica dunque penso che anche nei casi in cui si debba lavorare con queste piccole imprese certamente non con questi risultati straordinati di cui ha parlato il professore Pocanzi valga la pena impegnarsi certamente nel fare questo il coinvolgimento deve essere tale da indurre chiunque a non fare proposte come dire troppo azzardate ma a guardare attentamente al territorio di appartenenza e con gli ITS ci hanno obbligato anche a fare questo cioè ci hanno obbligato ad andare a verificare io personalmente non sapevo che esistessero tante piccolissime aziende persino nella nella mia provincia professoressa un minuto per favore credo che tutto sommato posso anche considerare quest'ultimo aspetto come il conclusivo grazie a tutti grazie un mestiere difficilissimo quello di fare il moderatore perdonatemi Claudia Ghellini Ansas vai la nostra confidenza ti mette a reventaglio grazie a tutti grazie a tutti eccoci qua eccoci qua eccoci qua grazie allora intanto buonasera e grazie per appunto questo invito e la possibilità di essere qui con a questo a questa manifestazione allora voi saprete che presso l'Ansas è attiva è attiva ormai da 11 anni e più o meno dall'inizio della sua storia la banca dati nazionale che documenta documentato e continua a documentare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore nel suo sviluppo proprio proprio quel sistema che il dpcm del 25 gennaio del 2008 ha riorganizzato con la istituzione degli istituti tecnici superiori allora in questo mio discorso vi faccio vedere alcuni numeri sui quali però non mi vorrei soffermare perché sono dei numeri che poi in qualche modo parlano da sé in questo caso voi avete la distribuzione numerica degli ITS nelle regioni mentre qua voi avete la distribuzione numerica degli ITS nelle aree tecnologiche che sono state individuate dal piano industria 2015 e che sono definite come le aree strategiche per lo sviluppo del paese premessi questi pochi dati in questo discorso io vorrei darvi alcuni flash mostrando come nel concepire proprio gli ITS si sono sviluppate si sono rese strutturali alcune strade che erano state in qualche modo prospettate nel triennio precedente l'emanazione del DPCM e in particolare ci riferiamo a due grosse esperienze fatte a livello nazionale che sono quella dei poliformativi e quella del piano di intervento che sono stati istituiti in varie regioni d'Italia poi vediamo e quella del piano di intervento Cipe IFTS ricerca che è quel piano che citava prima la professoressa Dorazio che è stato finanziato nelle regioni del sud pochi numeri per darvi un'idea del fenomeno poliformativi 117 poli costituiti in 13 regioni per un totale di 329 corsi IFTS ovviamente ancora piano di intervento Cipe 130 partenariati il partenariato classico diciamo così degli IFTS con il centro di ricerca e il mondo della ricerca come anche era presente nei poliformativi ai quali è stata affidata la realizzazione di percorsi formativi i partenariati si sono aggregati in 32 reti territoriali di settore ai quali è stato affidato il compito di condurre altre attività che sono attività di sistema 166 i corsi quali sono i punti di attenzione brevissimamente vorrei trattare i settori le attività e i partenariati allora riguarda i settori ovviamente non è che possiamo scontare in questa sede un discorso ampio su questo argomento anche se è interessante vorrei sottolineare soltanto alcuni punti allora poliformativi cosa si dice che la programmazione che è regionale naturalmente avviene con priorità per aree e settori del proprio territorio nelle quali siano individuati particolari esigenze connesse all'innovazione tecnologica e alla ricerca quindi vediamo collegati territorio e innovazione tecnologica e ricerca andiamo avanti nel piano di intervento di cui parlavamo prima si dice che i percorsi di specializzazione IFTS devono essere in grado di connettersi con i centri di competenza tecnologica in funzione dei servizi di ricerca e delle applicazioni tecnologiche da questi erogati con particolare riferimento ai sette settori strategici del mezzogiorno ricerca settori strategici del mezzogiorno allora con l'adozione per gli IFTS delle aree tecnologiche che dicevamo prima individuate dal piano industria 2015 che sono appunto individuate come aree strategiche per lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo dell'intero paese ecco questa adozione imprime una svolta decisiva al sistema i piani di intervento degli IFTS e di tutti gli IFTS si inseriscono in questa prospettiva all'interno del quadro strategico dello sviluppo nazionale d'altronde e d'altronde le fondazioni hanno un radicamento sul territorio delle fondazioni e il direttore Murano prima lo ricordavo molto chiaramente fanno parte una serie di soggetti che sono le imprese naturalmente ma sono gli istituti tecnici professionali le strutture formative che sono portatori già di una esperienza di collaborazione con il territorio nel quale operano andiamo avanti le attività entrambe le esperienze di cui stiamo parlando sono accomunate in questo ambito che è quello delle attività dal fatto che sia i poli sia come accennavo prima le reti sono chiamate a svolgere delle attività di sistema quindi non solo realizzazione di corsi e di percorsi ma anche quell'insieme di attività che mirano a rafforzare complessivamente il sistema di specializzazione tecnica superiore due in particolare l'analisi dei fabbisogni che è finalizzata e concepita proprio come finalizzata a collegare quelle allora si chiamavano ancora figure professionali ai fabbisogni formativi e occupazionali delle imprese e un'altra attività che è quella dell'aggiornamento del personale docente sia della scuola sia della formazione professionale che configura il polo e la rete per l'altro piano da una parte come un centro aggregante di competenze su tecnologie e innovazione e dall'altra come un centro di diffusione ai docenti come dicevamo e a cascata ai loro studenti vorrei sottolineare questo discorso delle attività di sistema perché con la riorganizzazione che con il DPCM si è a cui il DPCM ha dato il via diventano strutturali per gli ITS un complesso di azioni che mirano a fare dell'ITS proprio un punto di riferimento territoriale per costruire un rapporto organico e funzionale tra i bisogni e le trasformazioni del mondo delle imprese l'occupabilità dei giovani e lo sviluppo dei saperi tecnico-scientifici arriviamo all'ultimo punto i partenariati per partenariati io intendo i gruppi di soggetti e li vediamo sotto un'ottica particolare e cioè sotto l'ottica della numerosità il dato che ho scelto di presentare qui è il numero medio di soggetti per ciascun gruppo sapendo bene che non è affatto un dato esaustivo dell'argomento e del fenomeno numerosità però chiaramente per motivi anche di tempo dovevamo fare una scelta allora vediamo quali sono questi numeri 18,6 diciamo 18-19 partner per i poli formativi per i partenariati del piano di intervento Cipe sono un po' meno ma sono sempre molti perché sono 11,6 per le reti che aggregano diversi partenariati il numero medio naturalmente è proprio altissimo è 47 allora anche solo questo che è un dato così piccolo e unico pone di per sé una domanda quale tipo di organizzazione può essere funzionale per interconnettere in modo produttivo un numero così alto di soggetti e aggiungerei un numero anche una tipologia diversa di partner che tra di loro hanno delle storie e delle competenze di tipo diverso allora nel momento in cui si istituiscono delle strutture come gli ITS che hanno il compito anch'essi come dicevamo prima di condurre delle attività di sistema oltre che a realizzare dei corsi di alta specializzazione ecco che si fa propria la necessità di individuare una modalità organizzativa che possa consentire l'operatività di molti soggetti che come dicevo sono diversificati per tipologia per funzioni per esperienze e qui riprendo anche qui un discorso che faceva prima il direttore Murano questi istituti tecnici superiori nascono come fondazioni di partecipazione come organismi che hanno sono provvisti di una struttura e di forme di governance interne che diano loro la possibilità di operare con continuità e con responsabilità chiare dall'altra parte le fondazioni sono dei partenariati pubblico privati diciamo in maniera veloce cosa che dà l'opportunità di integrare know-how e competenze proprio con la finalità di ottimizzare il servizio reso concludo il DPCM nel il 25 gennaio del 2008 ha in qualche modo fatto questo la riorganizzazione capitalizza esperienze e modalità che sono state adottate ma le rilegge alla luce di una esigenza specifica per costruire un sistema nuovo che in Italia non esisteva prima del DPCM diciamo così e un sistema che sia riconoscibile a livello nazionale ma non solo che sia anche stabile e soprattutto capace di intercettare di comprendere di far proprie le innovazioni tecnologiche di processo aggiungerei di prodotto dello sviluppo economico del nostro paese grazie 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 Claudia Cristiana Cristiana Alfonsi della Fondazione Crui ecco grazie Franco grazie a Daica e grazie al Politecnico di Torino per avere invitato Fondazione Crui il direttore dottoressa Stefani si scusa è rimasta a Roma per impegni di natura istituzionale e ha delegato me a rappresentare lei e la Fondazione Crui in questo contesto molto volentieri ho accettato di venire per diversi motivi di natura personale per un'antica tradizione di rapporto con il Politecnico di Torino e di collaborazione in questi anni e perché l'argomento che trattiamo oggi mi appassiona da tempo e in questo momento in modo particolare ci vede come Fondazione Crui piuttosto impegnati l'impegno che Fondazione Crui ha riversato in questi diciamo 15 anni di storia della formazione dell'alta formazione nel nostro paese riguardano in modo specifico e particolare appunto lo sviluppo di un'alta formazione di tipo professionale nel nostro paese con un impegno che ha visto la Crui da una parte per quanto riguarda ovviamente tutte le vicende legate alle riforme delle università che sono partite con il 509 quindi un po' di tempo fa che prevedeva l'istituzione dei due livelli del 3 più 2 e ancora prima invece con l'istituzione di diploma universitari ma che ha visto la Fondazione Crui nello stesso tempo e parallelamente la sperimentazione e la realizzazione direi di progetti a rete e la parola rete ritornerà scusate tutte queste R che ruotano ritornerà spesso guarda caso in un contesto in cui credo in questi giorni di reti si è parlato moltissimo quindi è interessante e divertente doverla ripetere e sottolineare anche in contesti similari ma diversi allo stesso tempo dicevo tre progetti importanti che si sono sviluppati nel corso di questi 15 anni e che hanno avuto come obiettivo e come diciamo filo rosso di conduzione delle tre attività l'obiettivo l'alta formazione professionale di questo paese il primo appuntamento che noi ormai consideriamo un po' quello fondante quello che ha gettato le fondamenta di questo ragionamento è stato il progetto Campus che vedeva la realizzazione la sperimentazione di percorsi professionalizzanti universitari con i diplomi universitari appunto il secondo che è stato un progetto che si chiamava Campus One che prendeva l'eredità del progetto Campus per sperimentare una formazione professionale di tre anni all'interno delle università con le lauree triennali e poi il progetto così tanto citato già in precedenza finanziato nell'ambito del progetto Cipe appunto cosiddetto che noi chiamavamo TRIS tecnici per la ricerca si è lo sviluppo che in qualche modo ha preso è partito da un'esperienza consolidata gettata prima da Campus poi ripresa con Campus One e certamente raccolta nell'ambito del progetto Cipe che ha riguardato i partenariati che sono stati evidenziati prima nell'intervento precedente al mio e che in modo inedito rispetto ai due progetti precedenti ha visto la collaborazione stretta e devo dire molto efficace appassionante tra gli istituti scolastici delle regioni del mezzogiorno e le università non solo del mezzogiorno ma il sistema universitario in generale dicevo appassionante perché credo che per la prima volta per lo meno per quello che ne so io è stata sperimentata una collaborazione strettissima tra le università e gli istituti tecnici e professionali che facevano parte del progetto con un obiettivo comune quello di creare una esperienza formativa e professionale di alto profilo quindi un'alta formazione professionale che riguardasse non l'università non la scuola superiore ma un canale diciamo parallelo e nuovo qual è poi diventato e come poi è confluito negli ITS l'esperienza è stata importante come diceva la preside Dorazio perché ha messo a frutto un'esperienza ma anche diciamo messo a punto delle modalità di relazione e di rete tra università e scuole e non solo e tra diversi soggetti sul territorio in un modo molto concreto e fattivo che ha poi devo dire consolidato anche le relazioni tra i soggetti che hanno sperimentato questo progetto sperimentato questa esperienza tanto è vero che tuttora esiste seppur in modo limitato nel numero di soggetti che ne fanno parte una rete che per il momento a livello volontario perché il progetto è terminato ahimè ma che sta sperimentando una modalità di lavoro e di diciamo messa a punto delle tecniche potremmo dire di realizzazione degli ITS e delle fondazioni che parte da questa esperienza che è stata fatta in precedenza perché è importante il valore della rete in senso lato e generale perché ha dato la possibilità e credo potrà continuare a dare la possibilità di far sì che delle esperienze che fanno dell'autonomia e della territorialità il proprio punto di forza la rete garantisce a loro però non l'anonimato e l'isolamento nel territorio in cui vengono a svilupparsi ma la rete dà la possibilità a queste di diventare allo stesso tempo molto forti perché sono correlate tra di loro da una rete professionale non solo professionale ma umana e sociale dà la possibilità a loro di creare un network di scambio continuo e di quindi interfaccia sull'esperienza che viene a svilupparsi nella quotidianità voglio dire che è ovviamente molto importante che ci siano dei contesti precisi e delle linee specifiche che vengono date perché poi le esperienze a livello locale si sviluppino è importante però che queste esperienze poi non restino diciamo relegate nella loro territorialità ma trovino una crescita che sia una crescita congiunta questo vale non solo per il territorio in cui vengono a svilupparsi ma vale appunto anche per i rapporti tra i soggetti che concorrono a realizzare l'istituzione è credo un'iniziativa molto importante se vista da questo da tutti i punti di vista ma anche da questo punto di vista perché è molto complicata perché i soggetti hanno tutti la loro personalità da difendere diciamo così e anche i propri interessi nel senso positivo del termine da difendere ma la concorrenza per il raggiungimento di uno stesso obiettivo si è presa sul serio è molto importante e devo dire molto inedita se si può dire molto inedita non lo so se è inedita è inedita non è molto inedita questo dà anche e qui vengo e chiudo al tema più specifico delle università dà a ciascuno dei soggetti una responsabilità grande la responsabilità dell'università in questo senso è quella di considerare il fatto che ci possa essere un'alta formazione di tipo professionale diversa da quella che fa l'università e che nella diversità sta la ricchezza e che può essere un'occasione anche per l'università per fare diversamente meglio e più in modo adeguatamente diciamo più adeguato alle richieste attuali del mondo del lavoro e del territorio il proprio mestiere qui poi si aprono tanti scenari che sono quelli della lettura dei crediti della riconoscibilità delle competenze acquisite in un contesto per continuare in un altro e così via ma non mi interessa in questo momento entrare nei tecnicismi che peraltro ancora devono essere risolti mi interessava mettere in rilievo il valore del dialogo che si è creato in questi anni tra le due istituzioni e tra le due istituzioni e gli altri soggetti molto importanti per la realizzazione del percorso formativo perché credo che sia un'esperienza da non perdere ma anzi che debba diciamo creare un terreno fertile di crescita per le iniziative che andremo a istituire grazie grazie Cristiana le donne sono sempre più brave decisamente Ingegner Saroglia Buongiorno a tutti ringrazio dell'opportunità che mi viene offerta di presentare il nostro ITS della regione Piemonte per l'aerospazio e la meccatronica prima di tutto mi preme sottolineare come rappresentante dell'azienda a legna e come il gruppo FIMECANICA ha fortemente creduto in questa iniziativa tanto da avere un accordo quadro col Ministero l'azienda legna ci ha creduto tanto perché ritiene che veramente l'istituto tecnico superiore sia una risposta concreta a quelle che sono le attuali esigenze del mondo industriale esigenze esigenze che riassumo in due parole mestieri e competenze mestieri perché qui mi riallaccio agli interventi dei miei illustri predecessori che hanno sottolineato come le aziende in questo momento nonostante la crisi continuino a soffrire la mancanza di un numero considerevole di profili tecnici i dati di Confindustria Education riportano delle unità superiore ai 100.000 unità mancanti come profili tecnici per cui riteniamo che vada recuperata questa cultura del saper fare e crediamo fortemente che questo ITS possa essere una risposta a questo la seconda parte è relativa alle competenze perché negli ultimi anni le aziende hanno vissuto soprattutto le aziende come la nostra ad alta tecnologia hanno vissuto un fortissimo cambiamento dovuto a dei fattori esterni come la globalizzazione l'evoluzione dei mercati verso altre realtà non più del mondo occidentale ma verso l'Oriente anche e nuovi per noi a ridefinire quindi la nostra realtà aziendale come più una realtà non più basata su delle risorse concrete tangibili ma nella valorizzazione di quello che è l'intangibile quindi delle aziende puntando sulla conoscenza ed è questo riteniamo che sarà il fattore chiave per mantenerci sul mercato il fattore chiave della nostra competitività quindi questo apporto di alta tecnologia e anche su questo filone riteniamo che l'ITS sia veramente una buona risposta il punto di forza del nostro ITS è quello di aver dato una risposta di sistema nella nostra fondazione abbiamo le realtà più disparate siamo 14 soci che come mi ricordava la mia predecessore ha diversi interessi e quindi c'è una dialettica abbastanza accesa ma abbiamo la ricchezza di poter dare veramente una risposta di sistema in quanto abbiamo due istituti tecnici l'istituto tecnico di riferimento Grassi di Torino l'istituto tecnico Fauser di Novara abbiamo le due province di Novara e di Torino abbiamo le due università il Politecnico di Torino e l'Università Piemonte Orientale Avogadro abbiamo quattro agenzie formative l'ENAIC Piemonte la scuola camerana arte e misteri grazie immaginazione e lavoro e poi abbiamo le associazioni dell'impresa l'associazione industriale novarese l'unione industriale di Torino e l'AMMA e per finire la legna quindi una realtà veramente veramente poliedrica abbiamo aggiunto a questa realtà ulteriori aziende nel nostro comitato tecnico scientifico per produrre dei profili che veramente dessero una risposta a quelle che sono le esigenze del territorio le esigenze del territorio che per noi si sono focalizzate su Torino e Novara ma che devono essere come penso sia nelle indicazioni nazionali la valorizzazione di queste eccellenze territoriali ma dei fari dei poli di attrazione a livello regionale e addirittura a livello nazionale e quindi abbiamo inserito nel comitato tecnico scientifico altre realtà aziendali torinesi come la PR l'Avio la Teseo e la Prima Industria per poter cominciare a partire con dei profili su entrambi i settori sia il settore aeronautico che il settore meccatronico per l'aerospazio per quanto riguarda il settore aeronautico abbiamo proposto un profilo di tecnico a supporto del mondo produttivo che con la possibilità di inserirsi in diversi ambiti come l'analisi industriale i tempi e metodi le progettazioni di attrezzature le programmazioni il controllo della produzione rifornamenti e gestione magazzini la qualità il laboratorio per il profilo della meccatronica per l'aerospazio pensiamo a un tecnico a supporto della produzione con collaudo di produzioni installazioni collaudi presso i clienti manutazioni e riparazioni inseribili in un contesto in contesti più generali o in un contesto specificatamente aeronautico stiamo lanciando queste campagne in tutte le scuole delle due province in modo da poter diffondere quanto prima la conoscenza di questa opportunità che effettivamente essendo al primo anno parte un po' di corsa ecco perché siamo a maggio e noi intenderemmo iniziare i corsi in autunno a novembre i corsi avranno una durata biennale e i nostri come dire punti di forza sono avere una docenza anche molto dal mondo industriale offrire un numero ragguardevoli di docenze industriali un 600 ore e proporre numerosi tirocini nelle aziende oltre ad attività di laboratorio direi che concludo con un invito appunto ai giovani a poter come dire cogliere questa opportunità su cui la nostra fondazione sta facendo un grosso impegno con tutte queste partecipazioni così numerose e attive grazie grazie vorrei riprendere una cosa che ha appena detto che la vorrei sottolineare se ho capito bene su 2000 ore formative 600 saranno fatte da docenti delle imprese sì esatto corretto cioè noi prevediamo di avere un impegno dal punto di vista del mondo industriale non soltanto nei tirocini e nei laboratori ma anche in ore di formazione in aula la ringrazio io credo che questa sia una cosa da sottolineare se mi permette aggiungo anche una cosa non soltanto ore di docenze ma pensavamo anche di portare anche delle testimonianze dei nostri top manager aziendali di film meccanica per dare ai giovani delle esperienze concrete di attività in azienda grazie mi sembra un'ottima cosa per avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro poi se non sbaglio il gruppo film meccanica partecipa a qualcosa come 5 o 6 ITS complessivamente è possibile? esatto partecipiamo a 6 ITS su 6 regioni differenti sono molto invidioso il mio settore non ha dato altrettanta sensibilità grazie ingegnere l'ultimo testimone il dottor Ferla buonasera allora io parlo del progetto ITS di Biella che ha l'obiettivo di formare dei giovani specializzati nel campo del settore tessile abbigliamento moda per costituire un indispensabile ricambio generazionale un distretto tessile che pur si ha sofferto molti in questi anni di pesante recessione tra il 2005 e il 2010 si sono persi circa 8.000 addetti 300 imprese però è un sistema che continua ancora a essere organizzato su 15.000 addetti 800 imprese fa 3 miliardi di euro di fatturato quindi sono numeri molto importanti il settore tessile biellese è conosciuto a livello internazionale per la qualità elevata dei prodotti e rappresenta ancora oggi uno degli esempi direi più importanti del made in Italy anche a Biella ci sono le difficoltà nell'istruzione tecnica comune a molti altri distretti industriali italiani riconducibili soprattutto a tre ragioni la prima ragione come diceva prima il dottor Murani è un pessimo orientamento a livello di scuola media inferiore io mi sono occupato di questa cosa in passato sono andato a parlare nelle scuole e ho potuto notare con quale leggerezza venga scelta la scuola secondaria e superiore da parte degli studenti da parte delle famiglie secondo punto scelte d'immagine che privilegiano in questo caso i licei c'è il fenomeno della cosiddetta liceizzazione è vero che c'è stato negli ultimi due o tre anni una ripresa di interesse per l'istruzione tecnica che gli iscritti sono aumentati però vedevo nel sole 24 ore del nord ovest della settimana scorsa che per quanto riguarda il prossimo anno gli iscritti negli istituti tecnici sono previsti in calo di circa 600 studenti passiamo da 12.305 a 11.991 per quanto riguarda poi le scuole professionali la scelta maggioritaria nella nostra ragione riguarda l'indirizzo alberghiero quindi anche in questo caso sono scelte che non vanno certamente a favore del settore industriale la terza e ultima considerazione per questa parte le scelte di studenti e famiglie vengono fatte sull'andamento del mercato del lavoro storico è ovvio che se uno si basa sull'andamento del settore industriale del periodo 2008 2010 gli viene sinceramente poca voglia di andare a iscriversi a un indirizzo tecnico di questo tipo però io sono convinto che il settore industriale continuerà a rappresentare una parte fondamentale della nostra economia un terzo del pilo oggi è fatto del settore industriale continuerà a essere così anche in futuro non possiamo vivere soltanto di terziario e non c'è terziario avanzato in Italia se non c'è un sistema funzionante di imprese manifatturiera torniamo al caso ITS di Biella anche in questo caso c'è una serie di enti pubblici e privati sono sei c'è l'istituto tecnico industriale Quintino Sella abbiamo qua con noi oggi l'ingegner Franco Rigola che è il preside che è il personaggio di riferimento su cui ruota l'intero progetto c'è il Politecnico la Cittastudi la Camera di Commercio la provincia di Biella e l'Unione Industriale Biellese che io rappresento il corso anche qua è di durata biennale impostato su 2000 ore 4 semestri con un'alternanza di ore di aula io continuo a credere molto anche nell'importanza della lezione frontale però altrettanto fondamentali saranno le ore di laboratorio i seminari monotematici e gli stagi in azienda il contenitore in cui verranno ospitate questo corso qualcuno di voi credo lo conoscerà è la struttura di Cittastudi a Biella che ospita già corsi di laurea di primo livello in economia in scienze politiche e in ingegneria purtroppo lo dico qua oggi nella sede del Politecnico di Torino la recente decisione di chiudere le sedi periferiche ha fatto sì che oggi a Biella ci sia soltanto la possibilità di frequentare il primo anno in video streaming abbiamo organizzato in collaborazione col Politecnico di Torino anche un corso di laurea in textile engineering sono arrivati studenti provenienti da tutte le parti del mondo c'è stato un contributo fattivo del Politecnico e anche del sistema delle imprese che hanno investito 600.000 euro ci sono state inutile negarlo delle difficoltà e oggi il corso va ad esaurimento quindi questo cosa significa che in quest'anno accademico abbiamo avuto a Biella ancora i corsi del secondo e del terzo anno l'anno prossimo ci sarà il terzo anno e poi le cose saranno finite so che a Torino è stato avviato un corso in laurea specialistica dove gli iscritti sono pochi quindi il rischio è che non ci sia più un corso universitario nel tessere in Italia ovviamente come è già stato detto molto bene prima gli obiettivi dell'ITS non sono quelli dell'università sono obiettivi diversi però a questo punto diventa fondamentale che questo progetto parta e parta bene e abbia successo altrimenti il rischio che quello che non ci stanno facendo né i cinesi né il fast fashion né il calo dei consumi dell'abbignamento ce lo facciamo invece un po' ce lo facciamo noi con le nostre mani perché il bisogno di portare un ricambio generazionale nell'azienda c'è dicevo i diplomati partiamo dai numeri da numeri concreti il nostro istituto industriale di riferimento sforna all'anno circa 300 diplomati di questi 300 diplomati la metà sceglie un percorso universitario dove le facoltà più scelte sono ingegneria economia poi c'è anche infermieristica poi ci sono scelte di facoltà che non centrano drammaticamente con il percorso di studi superiori che sono stati fatti io ho visto dei dati che lasciano veramente pensare vedo scienza della comunicazione vedo cinematografia vedo scelte del tutto incoerenti con l'indirizzo di studi fatto attualmente a Biella c'è una sezione del liceo tessile moda che ha circa 20-25 studenti questo è un po' il bacino d'utenza da cui dobbiamo partire ma ovviamente l'obiettivo diventa molto ambizioso diventa ambizioso perché vogliamo cercare di arrivare anche a studenti diplomati da altre aree tessili d'Italia vogliamo cercare anche di attrarre persone diplomate che non hanno al momento un'occupazione e che pensano di voler specializzarsi anche nel settore tessile sono previsti e qui una particolarità molto importante dei moduli di allineamento per far sì che le persone che non hanno le competenze tessili possono arrivare a livello dei colleghi che invece hanno già studiato il tessile e quindi avere dei punti di partenza vicini vorrei fare un breve esempio delle materie cercherò di essere il meno tecnico possibile il futuro diplomati di essi dovrebbe avere una conoscenza approfondita ovviamente delle fibre tessili dei filati dei tessuti delle armature deve avere una competenza approfondita dell'intera filiera quindi da monte a valle deve avere delle competenze di informatica di inglese deve conoscere i processi deve conoscere i macchinari deve conoscere la qualità deve in altri termini cercare di migliorare quelle conoscenze che da sì la scuola secondaria superiore ma che un corso biennale potrebbe portare a livelli di specializzazione molto più ampia mi sembra di avere registrato che la riforma gelmini nella scuola secondaria superiore vada a ridurre le ore di laboratorio da 36 a 32 mi sembra anche di vedere che rispetto a qualche anno fa il profilo dei diplomati ha da un certo punto di vista una maggior capacità di spaziare in temi più ampi però secondo me c'è molta importanza per il sistema delle aziende di tornare proprio ad aspetti tecnici che possono essere spendibili in modo interessante che possono dare adito anche a una crescita delle professionalità non dimentichiamo che nel tessile c'è una base di empirismo che inutile negarlo c'è ancora però io sono più che mai convinto che i tecnici del domani non avranno purtroppo in molti casi la fortuna di avere dei maestri eccellenti come hanno avuto le persone che lavorano adesso in aziende quindi più che mai sarà necessario un tipo di formazione molto più strutturata e molto più completa direi che gli obiettivi sono questi sono obiettivi che speriamo ovviamente di cogliere con la partenza del corso che partirà nell'autunno di quest'anno voglio ricordare una cosa che magari non è nota a tutti che nel nostro settore che se ne dica non c'è delocalizzazione produttiva i filati i tessuti vengono fatti interamente a biella le poche aziende che hanno optato per una scelta di decentramento produttivo sono tornati indietro perché perché manca la qualità delle lavorazioni e se manca anche una rete di fornitori specializzati non si può pensare di fare l'unico prodotto che possiamo pensare di fare cioè un prodotto ad alto valore aggiunto dove il prezzo non è l'unica variabile di successo ma entrano in gioco anche componenti come diceva prima l'ingegner Sarogli immateriali che vengono molto apprezzati dai mercati soprattutto dai mercati emergenti che sono quelli che dobbiamo cercare di colpire oggi perché purtroppo la situazione italiana europea non induce certo all'ottimismo e poi la cosa fondamentale è che riparta un po' il sistema perché dovesse ripartire in modo stabile l'economia italiana e devo dire che gli ultimi dati portano un certo ottimismo abbiamo avuto dal giugno 2008 al giugno 2010 veramente dei mesi orrendi il secondo semestre del 2010 il primo semestre 2011 c'è stata una buonissima ripresa degli ordinativi dovesse continuare quindi barometro anche un po' più stabile tendente al bello io sono convinto che anche gli studenti e le famiglie tornerebbero a considerare con maggiore attenzione la scelta di questo settore che rappresenta per possibilità di innovazione di prodotti di processo per creatività e per specializzazione uno degli elementi più importanti della nostra industria grazie 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 dottor Ferla grazie di aver concluso così allora dunque io farei adesso questo mio brevissimo intervento di qualche minuto per poi lasciare la parola a chiudere per chiudere al direttore regionale la dottoressa Paola Casagrande direttore della direzione istruzione e formazione professionale e lavoro in sostituzione dell'assessore che come ho capito ha dei problemi ci fa questo se arriva va bene allora se avete pazienza faccio questo ammesso che sappia manovrare la tecnologia faccio questa piccola incursione grazie 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 bene si vede ottimo allora io faccio un'incursione di pochi minuti sull'informatica rispetto agli ITS però le tecnologie informatiche però non parlo degli ITS a orientamento informatico ma approfittando di questa preziosa occasione di avere credo molti ascoltatori che si occuperanno si occupano di ITS non informatici cioè gli altri cinque settori mi piace tentare se ci riesco se il messaggio riesce a essere comprensibile una specie di avviso ai naviganti per quanto riguarda le competenze informatiche nei settori non informatici perché per l'informatica è più facile per il settore informatico con il professor Claudio De Martini abbiamo lavorato bene a proposito delle competenze allora qui è dalla seconda allora parto con un'affermazione che è banale tutto sommato ma conviene sempre cioè tutti i mestieri tecnici quindi tutti quelli che saranno diplomati nelle scuole di alta specializzazione delle scuole speciali di tecnologie in qualsiasi contesto operano imprese banche servizi pubblica amministrazione hanno e avranno sempre di più a che fare con le tecnologie informatiche questo è un tormentone ce lo ripetiamo continuamente ma ormai non c'è dubbio perché? perché la loro missione il loro mestiere sarà come ha citato peraltro nell'intervento che mi ha appena preceduto quella di innovare processo e prodotto cioè ormai oggi la corsa la sfida la globalizzazione i mercati esteri la Cina la Russia il Brasile ci rimettiamo tutti ci costringono a questa corsa feroce di innovare sempre processo e prodotto e questo lo si fa con le tecnologie informatiche questo significa che useranno ciascuno nel proprio ambito le basi e gli strumenti per progettare le soluzioni gestionali che andranno appunto dalle soluzioni gestionali alla protezione per la sicurezza e la capacità di progettare questo a tutto ciò quindi è propedeutica però la conoscenza perché allora cerchiamo di capirci all'interno degli istituti tecnici la mobilità sostenibile il risparmio energetico il Made in Italy l'aerospazio come c'è stato così brillantemente esposto i ragazzi acquisiranno padronanza degli strumenti applicativi di quel contesto faccio l'esempio i sistemi informativi territoriali per la mobilità sostenibile i CAD per chi progetta per chi progetta meccanica e così via quindi le applicazioni le impareranno a questo punto però diventa fondamentale una conoscenza propedeutica a quell'ambito applicativo che viene spessissimo sottovalutata come imprese di informatica abbiamo rilevato un'esperienza concreta andando a vedere i nostri addetti i professionisti di information technology una carenza di competenze in modo sistematico e strutturato su che cos'è un progetto di innovazione tecnologica un progetto di informatica cioè si rischia di avere dei ragazzi che sanno benissimo tutto della gestione di un database usando Oracle o un sistema geografico un ERP per la gestione delle risorse dell'azienda ma gli mancano i fondamentali di che cos'è un progetto informatico questo è gravissimo perché non si recupera più in nessun momento sistematico gli manca quindi una conoscenza di che cos'è il ciclo di vita dei sistemi valutare un impegno del progetto la criticità del servizio concetti e conoscenze che appunto raramente i giovani acquisiscono bene su questo una soluzione c'è ed è proposta dalla comunità europea dal CEPIS la stessa fondazione che ha prodotto e distribuisce la patente europea l'ECDL ed AICA è il branch il chapter come si dice il chapter italiano il CEPIS ha definito e stabilito uno standard di competenze di base che tutti coloro che operano con progetti informatici dovrebbero possedere questo standard si chiama EoChip Core ha il vantaggio per una scuola sapendo che il mercato lo riconosce che è sistematico ha un syllabus è europeo è aggiornato è manutenuto ed è certificabile sulla base di queste caratteristiche pregiate e vado alla conclusione mi piace raccontare l'esperienza di tre scuole che stanno mettendo in atto questo progetto pilota sono il Romanazzi di Bari il Palo Baffi di Fiumicino e l'Enrico Fermi di Pontedera sono tre istituti tecnici economici a indirizzo sistemi informativi aziendali che stanno sperimentalmente inserendo nel curriculum del ragazzo le competenze e la certificazione EoChip Core questa cosa che sta ottenendo un successo significativo è da sottolineare per due ordini motivi i professori si sono buttati su questa sperimentazione con un entusiasmo incredibile e non gli informatici o meglio non solo gli informatici ma gli economisti gli insegnanti di inglese gli insegnanti di organizzazione e la seconda considerazione estremamente positiva è che in realtà hanno scoperto che le competenze prese una a una come molecole tutto sommato all'80-90% erano già nel curriculum ma adottare un modello di definizione di queste competenze che viene dal mercato li ha spinti a un insegnamento di tipo diverso interdisciplinare integrato e stanno accogliendo queste indicazioni in modo entusiastico perché vi ho raccontato tutto questo questa è una sperimentazione di istituti tecnici di secondo grado perché a mio avviso questa sperimentazione potrebbe far venire in luce un modo per definire in questo modo in modi simili i prerequisiti richiesti a tutti gli studenti che accederanno agli istituti tecnici superiori questo sarebbe come dire un prerequisito di competenze rispetto ai progetti informatici all'uso degli strumenti informatici che lasciatemi dire ci tranquillizzerebbe io quando abbiamo partecipato ai gruppi di lavoro al ministero per definire le competenze eccetera ho sentito nei vari settori degli studi tecnici chi parlava appunto degli ERP chi parlava dei GIS poi siamo bravissimi con gli acronimi ne inventiamo continuamente chi parlava di singoli ambiti applicativi rimanevo sempre con l'impressione che questi ragazzi sarebbero usciti con conoscenze di strumenti e di ambiti applicativi senza sapere che cosa vuol dire il costo di un progetto informatico qual è il ciclo di vita che per esempio la scrittura lo sviluppo la scrittura delle righe software in un progetto informatico a malapena raggiunge il 15% del costo del progetto una volta si pensava che bastasse scrivere software che la criticità dell'esercizio della messa in esercizio dei sistemi è spaventosa che c'è un problema di tutela dei dati personali che c'è un problema di sicurezza di reti tutte queste cose i ragazzi non le imparano da nessuna parte a meno che non le mettiamo come prerequisito e che potrebbero essere in esito agli istituti tecnici gli istituti di formazione professionale adottando gli standard europei piccolo messaggio vi ringrazio e lo sa che do la parola così ah c'è un filmato va bene allora intanto è l'esercizio grazie a tutti Campus Piemonte il sistema dell'alta formazione scolastica a livello nazionale industrie e istituzioni invitano a valorizzare la filiera tecnico-scientifica considerata strategica per lo sviluppo del paese l'economia piemontese chiede tecnici preparati in aree tecniche specifiche la regione Piemonte risponde destinando importanti risorse al finanziamento di tre ITS istituti tecnici superiori gli istituti tecnici superiori sono un'opportunità formativa completamente nuova gli ITS offrono una formazione qualificata proprio nelle aree più richieste dalle imprese piemontesi e strategiche per l'economia di tutto il paese il lato tecnologico della moda ITS per le nuove tecnologie per il made in Italy meccatronica la scienza del futuro ITS per la mobilità sostenibile aerospaziale meccatronica l'informatica con ITS per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione tra il diploma e la laurea un nuovo percorso formativo concretamente legato al mondo del lavoro ITS per il futuro professionale l'opportunità superiore che mancava io vi ringrazio di avermi aspettata però permettetemi mi giustifico in realtà ero in terza commissione regionale quindi mi hanno presa in ostaggio e dalle ore 15 dovevo abbandonare l'aula in realtà sono scappata via adesso vi chiedo scusa ma in realtà io ero in terza commissione per parlare di un tema che qualcuno dirà ma cosa c'entra con gli ITS io credo invece che c'entri molto io sono andata a parlare del nuovo accordo sugli ammortizzatori sociali sulla cassa inderoga e sui percorsi di ricollocazione un tema che non è direttamente collegato ma in realtà lo è perché il grosso problema in questo momento della regione Piemonte è quella di riuscire a far ripartire il sistema delle imprese attraverso delle professionalità e delle competenze di territorio estremamente importanti e oggi anche il tema della formazione che noi stiamo mettendo a punto attraverso i percorsi di politica attiva possono sposarsi sicuramente anche attraverso gli interventi che noi possiamo fare sugli istituti tecnici superiori e quindi sugli ITS che come stavo dicendo precedentemente è uno strumento su cui la regione Piemonte non solo ha creduto fin da subito ma ha investito ed è pronta ad investire in futuro siamo partiti con questi tre percorsi sperimentali che sono stati pubblicizzati avete visto il video che sarà oggetto di comunicazione della regione Piemonte non soltanto attraverso questo ma attraverso interventi ed incontri mirati ma soprattutto nasce da una forte collaborazione sentita col mondo accademico e col mondo dell'impresa e lo dico anche da imprenditore io in realtà sono un imprenditore prestato in questo momento alla regione Piemonte e col dottor Rosi devo dire che negli ultimi 15 anni abbiamo condiviso tavoli dove cercavamo di costruire dei percorsi che per le aziende piemontesi significassero comunque un valore aggiunto e soprattutto un futuro dell'imprenditoria piemontese ecco io credo che oggi attraverso gli istituti tecnici questo valore aggiunto che possiamo trasferire alle imprese che già operano in Piemonte e che opereranno in Piemonte si sia aggiunto un tassello quando abbiamo costruito le fondazioni che opereranno e che indirizzeranno soprattutto quelli che sono i temi didattici degli istituti tecnici ci siamo guardati a quel tavolo e ci siamo detti l'importante è che l'impresa sappia esprimere in modo corretto quali sono i fabbisogni formativi e professionali che attraverso gli istituti tecnici superiori vuole che vengano esplicitati e soprattutto che venga aiutata quella gioventù piemontese che avrebbe la possibilità di trovare nuova occupazione sul territorio ma che non ha la preparazione adatta per trovarla e quindi abbiamo dato un ruolo forte alle fondazioni ma abbiamo dato anche una grande responsabilità alle associazioni datoriali e alle imprese che stanno partecipando o parteciperanno comunque perché entreranno successivamente nelle fondazioni il ruolo dell'istituzione in questo momento è un ruolo di trade union noi in realtà sugli istituti tecnici facciamo veramente il ruolo soltanto di soggetto coagulante dei vari attori ma in realtà principalmente chi vogliamo che partecipi e sta partecipando da una parte gli atenei dall'altra le imprese e la scommessa è capire se realmente dopo tanti anni in cui le imprese dicono non troviamo le professionalità adatte le alte professionalità da inserire nelle aziende attraverso questo strumento riusciremo invece a rispondere alle esigenze e io mi permetto di dire la responsabilità ce le hanno le rappresentanze delle associazioni datoriali perché costruire un percorso didattico che risponda esattamente a quelle che sono le esigenze formative delle nostre aziende non è così facile ma lo strumento è snello lo strumento è importante ci sta credendo il ministero ci sta credendo la regione ci stanno credendo gli enti locali credo che in questo momento l'ente di ingrandimento che c'è sullo strumento su questo percorso di alta formazione perché di questo stiamo parlando fa sì che stiamo lavorando tutti in modo attento in modo preciso per far sì che i corsi che partiranno alla fine di quest'anno siano realmente dei corsi che lasceranno dopo due anni un'impronta indelebile nei percorsi formativi l'alta formazione per la regione Piemonte è sicuramente estremamente importante noi abbiamo una direttiva che è partita la direttiva di alta formazione per il percorso 2008-2011 con quasi 24 milioni di euro di dotazione poi il tema crisi il tema che come voi sapete abbiamo dovuto in qualche modo supportare quelle che erano le scelte di politiche nazionali e quindi le risorse abbiamo dovuto in parte anche ridimensionare queste risorse hanno fatto sì che noi siamo scesi a 18 milioni di euro ma con questo non abbiamo tagliato quelle che sono le nostre politiche i nostri obiettivi sull'alta formazione stiamo lavorando come l'università sa a 360 gradi per quanto riguarda l'alta formazione stiamo partendo in questi giorni con la nuova direttiva per quanto riguarda l'alta formazione per i dottori in ricerca quindi l'apprendistato dei dottori in ricerca e dei ricercatori all'interno delle imprese abbiamo avviato a novembre i nuovi percorsi dell'alta formazione in apprendistato partiamo adesso con gli ITS che per noi correttamente devono essere quello che sono già in altri paesi questi percorsi tecnici di alta specializzazione e abbiamo come avete visto evidenziato tre dei tanti filoni che sono importanti per la regione Piemonte la grande tradizione tessile e la possibilità di riportare sul territorio quelle professionalità che mancano per riuscire nuovamente ad essere soggetti territorialmente importanti anche in modo internazionalmente importanti nell'ambito del tessile dell'alta specializzazione e delle nuove tecniche che si legano in qualche modo alla produzione del tessile la meccatronica la tradizione piemontese la tradizione in particolare di questa provincia ma non soltanto che si sposa però oggi anche le nuove tecnologie dedicate all'aerospazio e in qualche modo all'aeromobile in senso lato noi e la provincia di Novara in particolare noi come provincia di Torino e la provincia di Novara in particolare sono due degli ambiti in cui maggiormente abbiamo insediamenti produttivi importanti in questi ambiti e poi la multimedialità che è il terzo ITS su cui abbiamo creduto perché dobbiamo guardare anche oltre a quella che è la tradizione piemontese in questo ambito come abbiamo già specificato abbiamo sempre specificato noi tra l'altro siamo una di quelle regioni che maggiormente ha investito risorse su questo ambito rispetto a quello che hanno fatto altre regioni d'Italia abbiamo messo delle risorse importanti insieme a quelle del Ministero che ringraziamo per la particolare attenzione oggi stiamo partendo con tre ma noi pensiamo e riteniamo che sia importante questo lo dico in particolare al Ministero e lo diremo domani al Ministro Gelmini che incontreremo riteniamo che sia importante lavorare anche e soprattutto per un futuro breve per poter lavorare su nuovi ITS perché abbiamo alcuni settori che sono specifici del territorio piemontese che possono permetterci di dare maggior occupazione attraverso questo livello di professionalizzazione quindi le risorse ci sono le abbiamo indirizzate credo che gli studenti ci saranno perché c'è stata una forte attenzione dal momento in cui noi abbiamo preannunciato questi nuovi interventi e le sollecitazioni che sono arrivate dal territorio sono state molteplici mi permetto di ringraziare gli attori che in questi mesi hanno lavorato attentamente e stanno lavorando tutt'oggi per individuare i percorsi didattici di questi nuovi ITS ma soprattutto voglio ringraziare chi ci ha creduto fin da subito e che sono le parti datoriali in alcune riunioni che si sono tenute nei mesi scorsi abbiamo sempre avuto da parte delle rappresentanze datoriali la certezza che quella era la strada giusta per far sì che la grande competenza dei nostri atenei si sposasse con la tradizione produttiva piemontese e questi sono i primi risultati che stanno arrivando ma soprattutto credo che al termine del primo bienio potremo trovare dei ragazzi altamente e tecnicamente professionali che troveranno sicuramente una collocazione all'interno del sistema produttivo piemontese grazie siamo stati bravissimi veramente le quattro e mezza è stato un fenomeno veramente ne ho visti tanti di convegni ma un rispetto e una sintesi così veramente è vero devo ammettere e ascoltate nel rispetto di lasciare qualche minuto per il coffee break ma soprattutto perché l'aula alle 5 c'è un workshop io credo dopo aver fatto tanto il cerbero che se qualcuno vuole fare qualche battuta di qualche minuto ce la possiamo anche permettere guardo il dottor Murano non so se vuole aggiungere qualcosa e Rosi fate voi se no ci alziamo e ci andiamo a prendere il caffè l'attrattiva del caffè è alta ma l'opportunità offerta alla discorso è ancora più ghiotta ancora più alta no io prendo lo spunto innanzitutto per ringraziare il ministero della regione Piemonte perché non è un ringraziamento diplomatica e non è propedeutico un solo ringraziamento ma confermare la richiesta che peraltro è stata già segnalata sia dalla parte ministeriale sia da parte adesso dell'assessore Porchietto rammento che il driver di riferimento devono essere le filiere distretti d'impresa tra l'altro abbiamo una dobbiamo creare questa coerenza di sistema che nasce ad esempio dalla conferma dei poli di innovazione come momento di aggregazione di saperi di ricerca di finanziamenti per la ricerca è una brutta parola di ricerca dei finanziamenti della ricerca ma è esattamente uno dei mestieri più difficili che riusciamo a fare con fatica quindi si ottimizzerà questo tipo di sforzo che le imprese le associazioni industriali le parti sociali stanno facendo se daremo stabilità e continuità anche con la ricaduta e con un trasferimento tecnologico che gli ITS possono garantire quindi questa indicazione strategica è per noi molto importante perché riteniamo l'ho detto ieri lo ripeto oggi che questo tipo di approccio è quanto di meglio riusciamo a fare con scarsità di risorse per fare della vera e propria politica di sviluppo industriale di cui abbiamo molto bisogno quindi solo questa annotazione grazie grazie soltanto una brevissima nota conclusiva adesso lo riprenderemo per ringraziare anch'io l'assessore Bruchetto per la sua presenza e per rassicurare che il primo triennio si avvia con l'attività didattica il primo settembre a settembre prossimo noi stimiamo che la maggior parte dei 58 ITS possano tra settembre e ottobre avviare le attività didattiche il secondo triennio con gli aggiustamenti che si daranno opportuni si definirà tra il primo settembre 2012 e il primo dicembre 2012 per quanto concerne invece la necessità di un rafforso di un confronto con le organizzioni datoriali sindacali categoriali e con il mondo confindustriale il 29 scorso abbiamo avuto un'intensa giornata del ministero della nostra direzione generale che ha consentito di verificare che in effetti l'interesse è molto alto da parte dei soggetti sulla realtà di mettere in allineamento le tecniche professionali con le linee guida per il secondo bienio e gli ITS è una grande sfida noi come ministero come direzione generale siamo in prima battuta estremamente coinvolti anche economicamente siamo convinti che dalla sinergia ai nostri sforzi i risultati potremo appunto averlo all'assessore bene non ci rimane che ringraziare il pubblico che è stato veramente attentissimo grazie a te grazie a te grazie a te grazie a te